questo cos'è? torta di mele della nonna ti piace? io non vado matto per i dolci sai, però ti capisco ma a chi sta parlando? a te, hai fatto un verso da ghiottone quindi ti piace il dolce io non ho fatto nessun verso, ho solo chiesto che cos'era ma si ti ho sentito non ero io io nemmeno oh scusate ma se non eri tu e neppure